CRASH CRUF Rivello di inseguimento Noiosissimo Ma quello dell'orso Se c'è l'orso mi sparo No dai scherzate non mi sparo Non mi sembra di siccero No 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 se lo matai non mi metto come c'è Orso Ah no masso masso Devo stare per la mia Ehm con questa tecnica appare blu Ma perchè quando faccio questa tecnica Appaiono sempre un ruolo di perpino Andiamo avanti Allora è più tecnica Quella Ma è un'altra vita Ok non è insidia C'è questa cosa qua Non è un puto bastardo No io voglio arrivare L'uomo di immagini non ci sono non ci sono ma questa volta che ho avuto non ci sono tutti Ok, qua è una sacrolla, tanto non faccio i bonus, già che non prenderò la genna, lo installo, quello che c'interessa non mostro, non faccio i bonus, ok, 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 ma no, ma dai! Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Per ora nessuna gemma bianca in questa Warp, non sono cristalli, perché questa mi sta odiosa, ma in questo livello otterremo qualcosina di più, ci lasciamo qua con un 24%, 9 cristalli e 6 gemme da Super Cosmos Shadow 9000, è tutto. Grazie a tutti.